Vi mostro come si fa il controllo qualità delle nostre ostriche la bocca Oggi sono arrivate dalla Francia le nostre ostriche Tutte le ostriche devono risultare completamente chiuse Quando vedete delle ostriche aperte significa che non sono più in vita Mentre sigillate così belle chiuse sono ostriche perfette Il secondo trucco per capire se un'ostrica è di qualità o meno è il peso L'ostrica deve risultare pesante, la devi sentire piena Adesso vi mostro come si apre Per l'apertura si possono utilizzare due tecniche O partendo da dietro o partendo lateralmente Io in questo caso effettuerò un'apertura laterale Una volta infilata la lama della preostrica si va subito a cercare la valva che tiene chiusa l'ostrica Una volta tagliata si va con la lama sulla parte superiore e si fa camminare verso il basso Una volta aperta si passa a controllare che la carne sia limpida Che sia succosa, che ci sia all'interno la sua acqua Questo certifica che l'ostrica era ancora viva E adesso possiamo assaggiarla Fantastica Grazie a tutti